Una cifra che sfiora il milione di euro, soldi bloccati che dovrebbero andare gli ex lavoratori della SEAF, la società di gestione dell'aeroporto Ridolfi di Forlì, fallita nel 2013, è quanto si legge sul resto del Carlino. Secondo quanto riportato il sindacalista Paolo Giglioli, ex dipendente della SEAF, ha presentato denuncia contro la curatrice fallimentare di SEAF, ritenendosi parte l'ESA e ipotezzando che la curatrice abbia commesso il reato di omissioni di atti d'ufficio. Nella denuncia Giglioli spiega che esiste un fondo di solidarietà del trasporto aereo, composto da quote versate dai lavoratori, dall'azienda e da una percentuale sui biglietti venduti, amministrato da un comitato con sede a Roma e a sua volta gestito dall'Inps, che può rinforzare gli ammortizzatori sociali e ordinari garantendo fino all'80% dello stipendio pre-fallimento. Giglioli ha quindi dichiarato che la curatrice fallimentare ha compiuto i primi passi per l'erogazione dei fondi, ma non ha mai inviato all'Inps i dati degli ex lavoratori che hanno diritto a ricevere l'integrazione, come richiesto dalla normativa. Le delibere sono quattro, la prima riguarda 39 persone, la seconda 37, le restanti 2, 25. La cifra, come già ricordato, sfiorerebbe l'un milione di euro disponibile e mai erogato ai lavoratori, con una media di 10.000 euro a testa. Giglioli si costituirà quindi parte civile in occasione di un eventuale dibattimento.